Musica ...e 5 corsi in fuoco libero. stand di tiro leggeri di Bedano società di tiro sportivo di Bedano e oggi c'è come di consueto il tiro di primavera e siamo qui con Gabriele Bernasconi presidente del STSB volevo far l'acronimo ciao Gabriele ciao saluti a tutti allora abbiamo praticamente iniziato ufficialmente la stagione esatto tiro il primavera per iniziare la stagione tiro in così familiare per poi fare un aperitivo assieme e ritrovarci prima della stagione perfetto quindi avendo aperto la stagione abbiamo già anche un po' le idee chiare sulla stagione della società di tiro sportivo di Bedano avremo come al solito i tiri militari quindi il tiro obbligatorio, il tiro in campagna poi ci sarà il Felsdisch che è un simile al tiro in campagna dove si vince una medaglia in Ardesia avremo il tiro del Giubileo che quest'anno è molto importante perché sono i 200 anni della federazione quindi parte da metà marzo fino a metà maggio dell'anno prossimo poi ci sarà una finale a RAU per i migliori e così e dopo avremo qualche nostro tiro interno e quest'anno cercheremo di fare anche qualche tiro all'esterno presso altre società Ecco Gabriele se possiamo dare un'anteprima anche quest'anno faremo il tiro famosissimo come quello che abbiamo fatto l'anno scorso molto bello dedicato ai tiratori con disabilità vedremo probabilmente sì diciamo che è in programma non sappiamo ancora quando vedremo organizzarci con le varie associazioni così di persone con disabilità l'anno scorso è stato molto successo quindi speriamo di ripetere anche quest'anno la stessa cosa Benissimo allora noi ringraziamo il nostro Gabriele Bernasconi Presidente della Società di Tiro Sportivo di Bedano e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Tiro News perché anche noi con questo tiro di primavera abbiamo aperto ufficialmente la stagione della nostra rubrica grazie Gabriele perfetto grazie a tutti ci vediamo negli stand alla prossima bene Grazie a tutti.